tutti possono decidere se paradiso o inferno e chi ha sete venga e chi vuole prende il nono dell'acqua della vita apocalisse 22 17 e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco apocalisse 20 15 e leggete adunque la vita a ciò che tu viva tu e la tua progenie deuteronomio 30 19 colori cui peccati sono perdonati andranno in paradiso e colori cui peccati non sono perdonati saranno gettati nel lago di fuoco il denaro la fama il potere o la religione non c'entrano nulla allora qual è la tua scelta devi scegliere gesù per essere salvato dall'inferno dio si sacrificò e preparò la via al regno dei cieli tutti i tuoi peccati passati presenti e futuri furono perdonati grazie al sangue di gesù cristo scegliere il regno dei cieli è molto semplice credi semplicemente che tutti i tuoi peccati siano stati perdonati e prega come segue caro padre celeste sono un peccatore e sono andando all'inferno credo che gesù cristo verso il suo prezioso sangue e morì per i miei peccati sulla croce e che fu sepulto e risuscitato dai morti come era scritto ora ricevo ricevo gesù cristo come mio salvatore personale ti prego entra nel mio cuore e salvami grazie per avermi perdonato i miei peccati attraverso il sangue di gesù cristo prego nel nome di gesù cristo amen grazie per avermi perdonato i miei peccati attraverso il sangue